Nome. William Bradford. Numero vittime. Due accertate. Modus operandi. Strangolamento, mutilazioni. William Bradford nasce nel 1946 negli Stati Uniti. Abbiamo poco o niente riguardo la sua infanzia e adolescenza. Si sa che William era un fotografo ed è proprio grazie a questo lavoro che adescava le sue vittime. Nel luglio 1984, mentre era fuori su cauzione e in attesa di processo per stupro, Bradford incontrò Shari Miller, una barista di 21 anni, in un locale di Los Angeles. Il maniaco le ha detto che era un fotografo professionista e si è offerto di aiutarla a costruire un portfolio. Con questa scusa, l'ha portata in un campeggio remoto nei deserti a nord di Los Angeles, luogo dove aveva già commesso uno stupro, per il quale era in attesa di processo. In quel luogo, l'ha fotografata in una varietà di pose da modella e poi l'ha strangolata. Dopo averla uccisa, Bradford le ha esportato con tagli netti, i tatuaggi, poi le ha tolto la camicetta e l'ha trasportata in un parcheggio di Hollywood, dove ha scaricato il cadavere in un vicolo adiacente. Il mese successivo, senza troppi sforzi, il killer puntò la sua vicina di casa, Tracy Campbell, di 15 anni. Le disse che poteva fare la modella e la portò nel campeggio nel deserto, dove la fotografò e strangolò allo stesso modo? Bradford ha lasciato il corpo lì, coprendo il viso con la camicetta della vittima precedente, Shari Miller. L'uomo diventò il sospetto principale quando la polizia apprese che era stato l'ultimo a vedere Tracy viva, poi, sommato al suo precedente per stupro, fece scattare il mandato di perquisizione del suo appartamento. All'interno hanno trovato le prove necessarie per far scattare l'arresto. C'erano le foto di Miller e Campbell, insieme ad altre 54 foto di donne non identificate. La polizia riconobbe la foto della ragazza trovata morta ad Hollywood e quella della ragazzina scomparsa, e, dopo aver analizzato bene la foto, scoprirono il luogo in cui erano state scattate. Scattò l'arresto ed iniziarono le ricerche, che si conclusero con il ritrovamento del corpo di Tracy in decomposizione. Bradford è stato processato nel 1988, durante il quale ha licenziato il suo avvocato, scegliendo di agire come legale di se stesso. Durante la fase del processo, l'uomo, sfacciato e arrogante, non ha offerto prove o argomenti sulla sua innocenza, tant'è che l'accusa ha identificato Bradford come un serial killer durante il corso del processo. Il pazzo, quando venne accusato di due omicidi e condannato a morte, disse. Pensate quante ancora ce ne sono. Questa frase portò gli inquirenti a sospettare che Tracy e Shari non erano le sue uniche vittime. Nel 2006, la polizia di Los Angeles ha improvvisamente espresso un nuovo interesse per il caso Bradford, partendo dalle foto trovate nel suo appartamento. Gli investigatori hanno affermato di credere che le donne potessero essere tutte vittime di Bradford. Una foto ha attirato particolarmente l'interesse degli agenti. La foto numero 28, la cui donna fotografata è stata identificata come Donna Lea Campbell Duamel, una donna il cui cadavere decapitato è stato trovato in un canyon a Malibu nel 1978. È stato stabilito che Duamel ha incontrato Bradford in un bar della città, pochi giorni prima del ritrovamento del corpo. Gli investigatori hanno anche rivelato che molte delle donne fotografate sono state identificate come ex mogli di Bradford, ma comunque la maggior parte di quelle donne rimasero sconosciute. Una delle possibili vittime era Nika LaRue, l'attrice di CSI Miami. Decistero, così, di pubblicare e mostrare le fotografie in tutti i giornali e televisioni nazionali. Questo non portò a grandi risultati se non da parte di alcune ex mogli, le quali raccontarono di aggressioni e stupri da parte del loro ex marito, Bradford. Il caso è ancora aperto. Il killer muore nel 2008 in carcere per cause naturali.